Allora, mancano nove giorni al raduno che comincerà il 4 di luglio, mancano cinque giorni al 30 giugno, scadenza del contratto di Paolo Maldini e Ricchi Massara e soprattutto si deve cominciare il mercato senza parossismi, ma certo con una urgenza necessaria, come ho sempre detto, per regalare giocatori a Piole. Ma veniamo un attimo ai nomi. Per quello che riguarda la difesa, la difesa per adesso con Ballotouret, Teo Hernandez, Florenzi, che deve essere praticamente solo ufficializzato, Florenzi e Calabria, Tomori e Gabbia, per adesso Gabbia, Kalulu e Kier, che però non so quando sarà pronto al massimo livello, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. La difesa ovviamente manca di un difensore centrale. Mi hanno assicurato che il difensore centrale arriverà. Non arriverà Bottman, l'abbiamo già detto nel video di questa mattina. Il giocatore è 37 milioni di euro, il Milan ne avrebbe spese 25 al massimo. Non era possibile per la filosofia del Milan. Andiamo a vedere chi prenderà. Un giocatore già maturo o per esempio questo Mavic Tiav, giocatore di origine africana, che gioca però nato a Düsseldorf, tedesco dunque, che gioca nello Schalke, in serie nella Zweite Liga, ma è un giocatore dell'Under 21, 1,91. Il costo però incomincia a essere 7,8. Non so cosa vogliono pagare i dirigenti del Milan, la proprietà del Milan per il difensore centrale giovane. Ma innanzitutto uno va fatto e forse diventerà un giocatore da prendere magari un po' più avanti. Secondo, centrocampo. Centrocampo manca, bisogna comprare Renato Sanchez. Qual è la situazione di Renato Sanchez? La situazione di Renato Sanchez è sempre in stand-by. Il Milan deve affondare il colpo. Il Milan deve presentarsi con l'argento, con il denaro, visto che gioca nell'Ile diciamo argento, e chiudere la trattativa. Chiudere, bisogna chiudere. Adesso bisogna, abbiamo tanto seminato, ci sono le messi, ma non devono essere gli altri che tagliano le messi per il grano, ma deve essere il Milan che taglia le messi per dare pane a Pioli. Fascia di destra, Ziek. Direi di stare molto calmi, perché l'ingaggio è molto elevato. Il giocatore è anche dal carattere piuttosto esuberante, quindi direi di lasciare stare per adesso Ziek, perché, ripeto, è troppo alto l'ingaggio. Non credo che si andrà. Un giocatore di cui si è già parlato, un giocatore che potrebbe essere interessante, 12 gol, diversi assist, potrebbe essere Asensio, che non rinnoverà al Real Madrid. Che non rinnoverà, vorrebbe rimanere a un altro anno di contratto, il Real Madrid gli ha detto no. Questo potrebbe essere un giocatore di caratura internazionale. Fascia di destra, grande salto di qualità. Ecco, il nome di Asensio non è un nome notizia, ma è un nome suggestione, ipotesi. Mi permetto anche di dire suggerimento, perché se mi oso dare questo consiglio e suggerimento è perché mi sono, come voi sapete, perché di me vi fidate, mi sono informato non tanto al Milan, non tanto alla proprietà del Milan, ma mi sono informato che Asensio potrebbe essere il giocatore ideale per quella fascia destra. Costo intorno ai 20 milioni, però qualcosa bisognerà pur mettere nel mercato, perché non possiamo andare a prendere i giocatori che non ci aiutino nel salto di qualità sulla fascia è come numero 10. Quindi se il Milan partisse già con Asensio e con Renato Sanchez, il Real Madrid non rinnova con Asensio. D'altra parte prenderlo in prestito non si può perché ha un anno di contratto, quindi bisogna trovare una soluzione, ma io penso che i rapporti che ha Maldini con Florentino Perez, con Carlo Ancelotti, che in questo caso può far poco, perché lui è un giocatore che impiega poco e non è dentro nelle strategie, l'ha alternato con Rodrigo. Quindi questo potrebbe essere un giocatore. Io dico che con Tiav, con Asensio, con Renato Sanchez, con Origi, beh, incominciamo a avere una squadra di grande caratura internazionale. Poi vediamo i deceteleri, Di Bala. L'Inter è stata abbastanza chiara con Di Bala. In questo momento Zhang ha detto Al, dovete farmi tornare i conti. Adesso arriverà Lukaku, lo sappiamo, continuano a dire che domani firma, non ha ancora firmato, ma entro il 30, è un po' come Maldini, entro il 30 devono prendere Lukaku, altrimenti non c'è il decreto crescita, non può essere applicato. Stessa cosa per Lukaku, stessa cosa per Maldini, lì non c'è né decreto crescita né decreto non crescita, lì bisogna prenderlo e basta. Quindi questo è un po' la situazione, questo è il momento di affondare. Aspettano ancora di firmare il rinnovo? Qualcuno continua a dire, io voglio parlare con un interlocutore che abbia firmato per il Milan, dicono che le bozze sono a casa degli avvocati di Maldini, di Massara, non lo so, comunque sono a Milano e speriamo che adesso ci sia l'operatività, sempre che Maldini sia convinto del progetto, perché Maldini ci ha abituato a dire chiaro che se non è convinto di una scelta, di un progetto, di una strategia, di una filosofia, lui non si butta, essendo quello che i tifosi del Milan considerano, come diceva ieri Luca Serafini, usando questo termine, una cambiale, cioè una garanzia, una garanzia di milanismo e di strategie che lui ritiene vincenti per il Milan. Detto questo, la situazione in questo momento è quella che vi ho appena raccontato. Adesso è inutile fare continuamente dei nomi, ho detto le ipotesi e però bisogna cominciare a operare. Se in giornata riesco a sapere qualcosa, perché come voi sapete qui non si riposa mai, qui non si è mai in vacanza, perché questo mestiere è bello, perché non si riposa mai, si riposa sempre, ma e se è sempre in vacanza, non si è mai in vacanza, non si riposa mai. Quindi cercheremo di capire, d'altra parte sono giorni caldi, giorni roventi, bisogna avere l'idea, però bisogna proprio mettersi lì a 200 all'ora per riuscire a chiudere. Questa sera, questa sera grande tifo per il Milan, la squadra di Ignazio Abate, l'Under 16 contro una grande squadra, la Roma, la Roma dei Mannini, la Roma dei giocatori che hanno sicuramente guidato, condotto un grande campionato contro la squadra del Milan di Ignazio Abate, che ha dei giocatori di grandissimo talento. Hanno già scritto l'attacco del Milan contro la difesa della Roma, Roma che io ho visto, come vi ho detto, nella partita contro la Juventus, come ho visto la bella vittoria del Milan contro il Vicenza di una squadra che era superiore ai Vicentini, che se però sono arrivati in semifinale, vuol dire che meriti certamente ne avevano. Quindi anche questa sera è una serata da, diciamo, da vivere con il Milan. In attesa che poi ci siano le novità, vediamo domani il compleanno di Paolo Maldini, Paolo Maldini non è a Milano, lo festeggerà, ho letto, non lo so, lo festeggerà a Ibiza. Poi mi auguro che lunedì torni rapido e si butti sul mercato per regalare i giocatori, per chiudere un po' le trattative, se sono state aperte, per parlare con la proprietà. Oggi ho letto un articolo di Luca Pagni su Repubblica e gli otemaldini separati in casa. È un titolo molto forte, è un titolo molto forte perché che ci siano state o che ci siano magari divergenze di vedute, vedete il discorso riguardante Botman che veniva ritenuto troppo alto il suo costo, Maldini e Massara magari l'avrebbero voluto. Poi è arrivato il Newcastle, 37 milioni e penso che siano tutti d'accordo che sia fuori dalla portata di questo Milan in questa situazione. Separati in casa, vuol dire che nei separati in casa io per fortuna non ho avuto questa non bella esperienza di avere qualcuno separato in casa, ma vuol dire che non ci si parla, credo proprio. Invece ovviamente i contatti tra la proprietà Paola Maldini e Ricchia Massara ci sono, ci sono delle, non dobbiamo negarla, magari delle divergenze sui giocatori, sul costo dei giocatori, sulle strategie, divergenze che poi non hanno impedito di trovare la sintesi perché il Milan non avrebbe vinto il campionato se ci fossero stati dei gravi problemi in società, perché sappiamo che quando ci sono dei gravi problemi in società poi si riflette. Punti di vista divergenti, punti di vista magari anche sul piano strategico e filosofico differenti, però speriamo che anche sul piano degli acquisti ci si parla in fretta, si trovino le soluzioni che possono andare bene a Londra e che possano andare bene a Milano. Questo è fondamentale, fondamentale. Chiudo ricordando che domani esce il mio secondo podcast La storia del Milan, domani vi porto nella lussureggiante Doha, sentite già il profumo di tagine e quindi vediamo le emozioni di quella vittoria, i calci di rigore, la grande parata di Donnarumma su Dybala. A proposito, Dybala, Dybala, ci sono stati dei contatti, dei sondaggi? Io spero di sì. Quindi Dybala in questo momento è bloccato, non ha sbocchi nell'Inter, proprio perché l'Inter vi ho detto che ha messo dei paletti, prima di affondare il colpo deve vendere i giocatori, speriamo che il Milan ne approfitti speriamo che piaccia a tutti l'idea di Dybala. Dicevo la parata di Donnarumma su Dybala il gran gol di Pasalic e quindi la grande soddisfazione di una vittoria che rimane là con la fotografia in casa mia e dunque una grande vittoria, una vittoria indimenticabile che ricordiamo domani nella mia seconda puntata della storia del Milan che potete ascoltare su Spotify. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella. Grazie.